ditemi voi se questo è normale un aeroporto normale questo è il terminale 1 a roma guardate che casino roba da matti c'è solo in italia ste cose ma roba da matti guarda che casino vabbè vi aspettiamo che arriva mia sorella ma roba da matti guarda un po come fa un aeroporto internazionale ecco donatella ma tu mi devi spiegare come fa un aeroporto internazionale ad avere tutto sto casino perché ci sono i parcheggi traduti questa cosa l'hanno fatta adesso prima non c'era da noi in olanda che si portano via la macchina si portano via tutto i carattrezzi li vedo i carattrezzi guarda un po che casino